ciao amici in tanti mi avete chiesto di dare qualche consiglio su come dimagrire le gambe ed eccoli qui era ora e sì gambe e cosce sono punti critici per molte donne il primo passo per affrontare il dimagrimento delle gambe e fare il test del grasso sulle cosce test del grasso sulle cosce che paura ho fatto vedere come fare in questo video una volta che avete verificato se le gambe sono grosse per il grasso o per i muscoli ecco sei esercizi efficaci per snellire le vostre gambe se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi 1 jump squat partite in piedi con le gambe aperte alla larghezza del bacino ruotate leggermente in fuori le punte dei piedi il peso del corpo perfettamente al centro portate le mani incrociate dietro alla nuca senza spingere piegate le ginocchia come per sedersi su una sedia portando i glutei indietro con il busto eretto mantenendo gli addominali contratti fare un salto va bene anche un saltino un molleggiamento a seconda della forma fisica l'importante è fare l'esercizio ma non farsi male fate tre serie da 15 ripetizioni 2 affondi con torsione del busto si parte da in piedi con le gambe aperte a larghezza del bacino prendete un mattarello un ombrello lungo o un manico di scopa con tutte e due le mani portate le braccia in alto con la schiena dritta inspirate e portate indietro il piede destro per eseguire un affondo espirate e fate una torsione del busto a destra remando col mattarello verso l'esterno tornate in posizione di partenza e fate lo stesso partendo con il piede sinistro e remando a sinistra eseguite l'esercizio in serie da 30 secondi con 10 secondi di recupero 3 step knee up per questo esercizio bisogna mettersi in piedi davanti allo step ma va bene anche uno scalino appoggiate il piede sinistro sullo step e spingete verso l'alto salendo sullo step alzate la gamba destra piegando il ginocchio fino ad arrivare con la coscia parallela al pavimento le braccia si devono muovere alternate alle gambe quando sale la gamba destra sale il braccio sinistro e viceversa fate attenzione a tenere la schiena dritta i glutei contratti e le gambe un po' piegate alternate gamba destra e sinistra facendo delle serie da 15 ripetizioni come consiglio sempre nelle mie consulenze di naturopatia del mio sistema di salute naturale la cosa importante è fare l'esercizio nel rispetto della propria costituzione e forma fisica quindi scegliere il ritmo l'intensità e le ripetizioni in base allo sforzo che potete permettervi quando si fanno esercizi per dimagrire nel mio sistema la cosa più importante è divertirsi e trascorrere momenti piacevoli così avremo sempre più voglia di tenerci in forma e i risultati non tarderanno ad arrivare bene amici oggi abbiamo visto gli esercizi mirati per l'allenamento delle gambe vi lascio in descrizione la playlist con gli esercizi di serena se volete provarne di nuovi se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato ed ecco il mio regalo per voi potete preparare una golosa ricetta di frullatone bruciagrassi per reidratarvi dopo lo sport o come spuntino spezzafame amico della linea link qui sotto in descrizione commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali è